La Rinata Forza Italia anche a Piacenza si sta riorganizzando e riprende la sua battaglia politica sul territorio con alcune importanti sfide. Vogliamo sapere dalla regione se l'ospedale di Fiorenzuola sarà veramente ripristinato oppure diventerà una residenza per anziani. Vogliamo mantenere il 118 a Piacenza e chiediamo una legge migliore per contrastare il gioco d'azzardo. Hanno detto nella sede di Via Cavour il padrone di casa Antonio Agogliati, Jonathan Papa Marenghi, Fabio Callori, Andrea Pollastri e Werner Argellati. Vediamo le difficoltà che trova la gente con come tratta la regione e la provincia di Piacenza perché la regione in Emilia Romagna parte da Palma e arriva a Rimini. Piacenza, se ne accorrono di Piacenza quando devono fare i tagli. Il primo appuntamento importante sarà quello delle elezioni amministrative in 34 comuni della nostra provincia nel maggio 2014. Gli obiettivi sono quelli che ci ha dato il nostro Presidente. Dobbiamo convincere l'elettorato italiano, di coloro che hanno votato il Movimento 5 Stelle perché si sono stancati dai partiti tradizionali, gli indecisi, coloro che sono andati a votare, convincere che in un momento così difficile e delicato nel nostro Paese c'è una forza politica e forza Italia che può dare risposte importanti ai problemi tanti purtroppo che ci sono nel nostro Paese.